Ciao, sono Paolo Vacci e vi presento questo nuovo Leica EcoVip 4012 Face-to-Face letto nautico made in Italy, come vedete soprattutto, anzi made in Tuscany un'eleganza di finiture esterne e interne e una qualità nella produzione cliccate qui sotto nel link e si aprirà la scheda del nostro sito dove ci saranno dimensioni optional compresi su questo camper prezzo di listino per equipararla a tutti gli altri e prezzo chiave in mano non c'è scritto il risparmio che avrete comprando da Caravambacci ma è veramente tanto poi andiamo a vedere il garage questo è un bello spazio, uno sportello grande qua la cesso e qui sotto le dimensioni quindi queste poltroncine sono le poltroncine per il terzo e quarto posto quindi se siete in due le lasciate a casa e avrete ancora più spazio l'EcoVip ha un doppio fondo che in questa parte posteriore c'è qui la pompa e di qua invece un contenitore la valvola dello scarico delle acque grigie è qua perché oltre a essere isolato è anche isolata la valvola per cui è protetta per qualsiasi temperatura ora andiamo al suo interno una bella porta, una bella piedata per l'accesso finestra, porta immondizie una bella maniglia che è per salire qua lo sportellino per poterci mettere le scarpe e questa è la ampia zona giorno la finestra è la finestra di là scorrevole una bella finestra anteriore apribile come vedete è comodo per 1, 2, 3, 4, 5 e 6 poi questa bella rifinitura guardate con che cura è stato anche questo pannello molto molto ben rifinito sportello a destra e sportello a sinistra il tavolo che permette così chiuso permette di citarci anche in 6 con dei bicchieri con delle poche cose appoggiate oppure allargandolo è un enorme tavolo che così ci si può mangiare in 4 abbondantemente è veramente conviviale i due sportelli sotto il letto vedete con che rifiniture che ci sono il blocco cucina qui la curva che caratterizza il prodotto ecovip bel materiale ottimi prodotti anche esterni perché qualcuno penserà che sia un punto delicato invece vi garantisco che dopo tanti anni anche ritirando usati è sempre perfetto perché è il materiale che cambia tre fuochi e poi un bel lavello col piano d'appoggio poi cassetto cassetto e poi un altro sportello sottostante poi altro sportello cassetto vedete con che finitura veramente molto molto eleganti poi i due pensili uno un po' più piccolo sotto il letto e uno più grande al suo fianco il frigorifero frigorifero congelatore e frigorifero ha la possibilità nel caso siate a letto di prendervi una bella bottiglia fresca e assaporarvela nella parte notte qua sopra un enorme contenitore che sapete le pentole per noi e sono molto molto importanti quindi questo spazio è veramente importante poi la porta che divide le due zone la parte anteriore con la parte posteriore e poi anche questa chiusura che quindi divide la zona notte alla zona servizi e quindi alla zona giorno se ti piace questo video iscriviti al canale youtube Caravambacci e clicca la campanellina per essere sempre aggiornati e soprattutto vieni a trovarci perché tutto il team Caravambacci è come me un camperista e il nostro motto è libertà di scelta perché abbiamo tanti campe così possiamo consigliarti farti risparmiare con professionalità tranquillità e trasparenza perché vogliamo aiutarvi a farvi scegliere il campe per la vostra famiglia e per le vostre vacanze mi raccomando iscriviti e ora continuiamo con il video qua la doccia veloce pratica funzionale con l'oblò e quindi ha uno spazio veramente confortevole come vedete mi lavo veramente bene poi la parte toilet questa è la seduta che può essere comodissima quando la porta è aperta ma come vedete è concava per cui anche immaginatevela chiusa ci si sta bene sotto il lavello un bel contenitore e poi questi due bei pensili che c'è tanto stivaggio la finestra e poi questo grosso lavabo guardate come è funzionale è funzionale la zona notte come vi dicevo c'ha le due le porte che si chiudano poi questo è un contenitore poi dei bei cassettiere uno due e tre poi il letto il letto in questo modo ha sia la facilità di andare a prendere le cose dentro l'armadio l'armadio di sinistra e l'armadio di destra ha la possibilità di leggere meglio perché così è veramente comodo le due belle finestre e l'oblò soprastante con facilità c'è la maniglia eccomi qua questo è il letto qua ci sono due grandi spazi sia a destra che a sinistra dove potete mettere tutte le vostre cose tablet e telefoni perché tanto c'è la presa usb quindi sempre pronto all'uso questo è il grande letto matrimoniale qui è veramente comodo per due protezione posteriore e protezione anteriore un bello blò panno su tutto il soffitto per cui migliora sia l'isolamento termico ma anche l'isolamento acustico molto molto importante quando piove perché quando piove è bellissimo il camper dormirci ma quando piove veramente forte a tutire un attimino il rumore migliora i sonni certo non potete dire che non vi è piaciuto perché questo è un bellissimo prodotto quindi vi invitiamo a chiamarci a venire a vedere per rendervi conto la bellezza e come è costruito i nostri consigli vi aiuteranno a scegliere il camper adatto alla vostra famiglia e alle vostre vacanze come sempre agli ottimi prezzi e servizi carabambacci ciao ciao